Siamo arrivati in piazza a San Martino di Castrozza, guardate, che bello, dolomiti che si vedono sembrano vicinissime, sono lì, guardate che bello, stupendo, piazza a San Martino di Castrozza. E abbiamo, guardate, benvenuti, San Martino di Castrozza, non lo leggete niente. E qui abbiamo la nostra colonnina del progetto Green Wave Primiero, vedete, che abbiamo collegato, con una potenza istantanea, vedete, 21 kilowatt. Guardate, 21 kilowatt, grande, grande progetto, tessera gratuita, carica gratuita. Adesso abbiamo, andiamo a vedere, ricarichiamo 30 minuti neanche, poi 20 minuti e andiamo all'altra ricarica che è Predazzo. Guardate, stupendo, San Martino di Castrozza, in ricarica la Zoe, la mia Zoe ricarica, guardate, anzi la nostra Zoe, perché la condivido con voi. Guardate, bellissimo, bellissimo. Dolomiti, nella valle San Martino di Castrozza, ciao ragazzi.